Sarà un cartellone ricco quello della stagione teatrale 2017-2018 della Fondazione Teatro della Fortuna, presentata stamattina in chiusura della stagione in atto, che ha visto una buona risposta del pubblico dei più giovani e un incremento sia degli abbonamenti che del numero di spettatori in sala e che da ottobre a marzo prossimi offrirà 21 serate di spettacolo con interprete eccellenti che confermano Fano tra le realtà di riferimento nel panorama regionale. Sette spettacoli come per l'anno che si sta chiudendo, proprio oggi inizia l'ultimo spettacolo della stagione 16-17. Tanti interpreti di primo rilievo, veramente di primo piano, abbiamo tenuto conto di quello che ci hanno detto i nostri spettatori affezionati che ci hanno seguito in tantissime di questi, li ringraziamo, abbiamo tenuto conto proprio di che cosa hanno più apprezzato. L'inaugurazione è l'11 ottobre con Fabrizio Bentivoglio diretto da Michele Placido in L'Ora di ricevimento che tratta la realtà di una classe elementare nella problematica baglie di Tolosa. Sarà poi la volta della prima versione teatrale del capolavoro di Umberto Eco e Il nome della Rosa con un cast di grandi interpreti diretti da Leo Muscato, in scena dal 10 al 12 novembre. Isabella Ferrari e Iaia Forte saranno come stelle nel buio dal 6 all'8 dicembre sotto la regia di Valerio Binasco e poi Egno Fantastichini che sarà Re Liar fino al 21 gennaio seguendo il percorso sperimentale orientato alle nuove tecnologie di Giorgio Barberio Corsetti. Il periodo carnevalesco farà spazio al musical con Manuel Frattini che sarà Robin Hood affiancato da una delle rivelazioni televisive degli ultimi tempi, Fatima Trotta conduttrice di Made in Sud, nei panni di Lady Marian e poi un grande interprete di Casa Nostra, Neri Marco Re, diretto da Giorgio Gaglione, in Quello che non ho, in cui si interrogerà sulla nostra epoca tra speranze future e ansie presenti, ispirato dalle canzoni di De Andrè e dalle visioni lucide di Pierpaolo Pasolini. Conclusione poi dal 16 al 18 marzo con Lorella Cuccarini e Gian Piero Ingrassia, già coppia in gris, con una commedia ironica e passionale diretta da Gabriele Pignotta che ci regalerà una chiusura all'insegna del divertimento.